Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, è tardi, però voglio mostrarvi una cosa che ho appena testato oggi e che mi è piaciuta tantissimo. Allora, mia sorella mi ha detto che ha letto su Ya Wansor che tantissimi anni fa, come rimedi per gli inestetismi, soprattutto per la pelle secca, per le gambe gonfie, ritenzione idrica, ma anche per le smagliature e la cellulite, che moltissime persone consigliavano in estate di fare la combo pelle bagnata con olio johnson e poi di mettere la fluida nivea con l'aleocrema sul corpo, con la pelle poi asciutta, per andare ad idratarla in profondità, essendo che io comunque ho a casa la piscina e ho notato che mi stavano uscendo delle piccole smagliature, in quanto il cloro a me è secca parecchio, io ho una pelle veramente secchissima. Ho provato e devo dire che mi sembra che continua ad essere ben idratata la mia pelle, quindi utilizzano in estate la combo, utilizzavano, ma secondo me qualcuno ancora la utilizza, la combo olio johnson, olio corpo, e dopo aver tamponato la pelle e messo l'olio fanno asciugare tutto e poi mettevano appunto la nivea cream, la nivea fluida, oppure un dopo sole, oppure l'aleocrema, oppure una qualsiasi crema insomma idratante. Devo dire che con questo metodo innanzitutto economico, perché questi prodotti sono economici, li troviamo al supermercato, del olio johnson hanno fatto anche la versione col tappo verde, che non è proprio bio però, che ha tantissimo inci verde, fino a quasi alla fine tutto verde, tranne qualcosina, quindi se siete amanti degli inci puliti vi consiglio di darci un occhio, ve l'ho già mostrato, è quello per piccolini insomma neonati, e la nivea invece, io ho utilizzato una nivea in particolare, ora vi mostro. Come olio johnson io ho utilizzato questo col tappo rosa, mantiene idratata la pelle fino a 10 volte di più, però appunto come vi dicevo esiste anche quello col tappo verde, che è a un inci migliore. E come nivea fluida, questa qua io la vedo utilizzare, la nivea in generale, in diverse varianti, l'ho visto utilizzare nel tempo a mia mamma, a mio papà, a mia nonna, a molte mie zia, a molte mie cugine, quindi ve la consiglio. Questa qua è quella da 250 ml, nivea fluida corpo, happy time, energizzante, con estratti di bambù e proteine del latte per pelli normali. La nivea in generale mi rinfresca molto la pelle, più del doposole, poi non so, e dopo sole ce ne sono tantissimi, poi li ho usato io però, non erano equiparabili alla sensazione di freschezza che mi lasciava la nivea sulla mia pelle, che è anche soggetta a delitema in estate, quindi ho proprio bisogno di un'idratazione profonda. E nulla, questo è tutto, io spero di esserti stata utile, ti mando un grosso bacio, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lascia un commentino qui sotto. Ciao!